Ciò che resta della famiglia di Irene Margherito, oggi pomeriggio, le darà l'ultimo saluto nei funerali che si svolgeranno alle 16 nella chiesa del Rione La Rosa. Non ci saranno di certo la sorella Giussi, che è anche la moglie di Adamo Sardella, ossia il killer in carcere per omicidio volontario. Non ci saranno di sicuro neanche i figli della coppia, nipoti della vittima, che si sono schierati apertamente con il padre. E forse non ci sarà neanche Alessandro, il figlio di Irene, che ha accompagnato lo zio sul luogo in cui poi quest'ultimo ha sparato alla madre. Il giovane, che non è indagato ma che comunque si è affidato allo stesso legale di Adamo Sardella, ha fatto sapere di essere intenzionato a partecipare ai funerali, ma la sorella Natalia lo ha invitato a non presentarsi considerandolo moralmente responsabile dell'accaduto, a maggior ragione per il fatto che il giovane non ha mai preso posizione contro lo zio che gli ha ammazzato la madre. In questo clima avvelenato saranno celebrate le sequie di Irene Margherito, mentre parallelamente proseguono le indagini in una vicenda giudiziaria destinata ad avere un epilogo, probabilmente altrettanto drammatico in corte d'assise.